Ecco allora come sarà questa famiglia. Sarà una famiglia attraverso la quale Dio effonderà liete parole. Liete parole. Sarà una famiglia rivolta al Signore e non sarà mai confusa. Anche se dovrà affrontare le prove come tutte le famiglie. Sarà una famiglia amata quindi sarà forte perché l'amore è una forza. Sarà una famiglia scelta e inviata perché avete un compito. La vostra vita, la nostra vita è una vocazione, una vocazione e una missione. E questo da vivere ogni giorno nella semplicità con lo sguardo e l'atteggiamento dello stupore. Sarà una famiglia scelta e inviata perché l'amore è una forza. Io Daniele accolgo te e Anna come mia sposa. Io Anna accolgo te e Daniele come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre. Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. E di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. E di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. E di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. E di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Anna, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. E di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Grazie a tutti Grazie a tutti